Dovevamo giocarlo su PC, dovevamo giocarlo su Xbox, ma invece siamo qui con la versione Switch Benvenuti amici di Gamescore, io sono GB Slacco e oggi sono qui con Swinsanity Ma sono qui soprattutto con i miei colleghi grandissimi, Dico, Sisko e Andrea Ciao a tutti Bella raga Ciao Oh dopo questa introduzione io compro il gioco Se sono uno dei notici Lettori, ascoltatori Guardatori Cosa ti racconti? E oggi appunto siamo qui con questo giochino In realtà Ma è una storia molto particolare Perché questo gioco qua È disponibile su Nintendo Switch da un pet In realtà Però molto recentemente Molto, molto recentemente Ha avuto un grosso aggiornamento che si chiama Swinsanity 2.0 Ed è un aggiornamento enorme signori Enorme Ha tipo i matchmaking online Ha tipo 300 milioni di modalità di gioco Cioè è enorme Cioè Stoppate i video E andate subito a prenderlo Perché veramente Potete fare di tutto Questo gioco qua Potete anche fare il torta pane Allora subito E ci riscaldo le tette Ecco Guarda Io voglio spaccarmi Perché in questo tipo di giochi Più ci si diverte in compagnia E più vale la pena Quindi Siamo qui apposta Siamo in quattro Quindi è il massimo delle sue potenzialità Ve lo vogliamo mostrare In tutto il suo splendore Sperando che splenda insomma Assolutamente No Le premesse ci sono Dai Vediamo un po' Ah se ci sono le premesse C'è tutto Dai Eh Eh A me ricorda Vi dico un po' speedrunners E quella volta Se avete visto il nostro video Eravamo piegati dalle risate Quindi non vedo perché Non dovremmo divertirsi anche altro No quello la è stato epico Questa cosa è riga Perfetto Per me invece È una totale novità È la prima volta che avvio il gioco Mentre voi parlavate Io ho già fatto vedere Meno ho anche abbassato Il volume della musica E adesso è arrivato il momento di giocare Quindi Gioco online Connessione ai server di gioco Abilitare la riproduzione tra reti Cioè include i giocatori Credo che sia il cosplay quello Cosa? Credo che sia tipo il crossplay Il crossplay Ok attiviamolo Io ho messo sì Tanto poi creiamo la stanza Chi la crea Chi è che ha una bella rete cicciotta? C'è Ce l'ho io Io sto qua attaccato al modem Ma al team hub Ok vai Allora Crea stanza Allora E allora L'idee Cancelletto Che mi sembra dovrebbe apparire Già di default Lì 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Quindi Sì no infatti io metto shock No medico Shock Oh io non so in cosa consiste sta roba Sto gioco No dovrebbe essere power up Dovrebbe essere power up Quindi ok Poi non so quello che succede eh qua Io prendo piranha perché è faccione simpaticone Il bello della scoperta Kiko Pronto Pronto Ah guarda che match Ha scelto la modalità death match Ma non l'ho scelta io eh Quindi Are you sure? Sì Sì Devi premere più eh No Abbiamo Mislacco e Masterframe con il simbolino del mitocolo E io e Rockford No Chissà cosa ha visto nelle vostre console Ragazzi allora vi spiego i tassi perché l'ho provato prima io eh Allora Control a sinistra vi muovete ZR Sparate Con la B vi teletrasportate Con il contro al destro Mirate E con X tipo vi teletrasportate No no con X scusate fate tipo i Certa roba Si sta totalmente chiaro che con la mia confusione che sto passando continuamente tra controller della Switch e controller della Xbox che hanno i tasti differenti A chi lo dici A chi lo dici Quindi Ok Vaimo ammazzando Oh No 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 no! Chi è com'è?! Chi com'èُ Neden? Ah, non siamo tutti con tutti Ok chaotic si scono eh Andrea ma no mi hanno fatto esplodere mi hanno fatto esplodere e con zl utilizzare i tipi taschi tipo lanciare gli oggetti però non lo posso non lo posso più teletransportare sto cercando di capire come tutti hanno quegli oggetti giustosito basta ci vai sopra si no ma che era Andrea oh mi sono incastrato smettila di tutti ma perchè ce l'avete tutti con me non è giusto lasciate a Francesco dove c'è dove c'è Roquefort no no ma che cosa è come si mettono i power up con zl con zl zl ok voi che siete bravissimi oh la megamossa forse era meglio se non glielo dicevamo no non ho fatto io però no quella ero io ma allora voi che siete pro che avete già voi che siete dei pro che già ci avete giocato spiegatemi una cosa è normale che si volata in questo modo o è lo stiamo sott'acqua ma tutto il gioco è sott'acqua no che ne so mica ci ho passato 10 ore sopra oh oh perchè io devo sempre fare la parte di quello che già stai io mi sei ma non sei pensalice uomo porca trota ma più che nel massimo delle sue potenzialità lo stiamo mostrando nel massimo del bordello che è esattamente quello che ci siamo sentiti esattamente giusto oh c'ho lo scudo fisco fai un po' a vedere c'ho lo scudo no sono stato divorato dello squalo fisco ma l'ho mandato io lo squalo perchè mi ha mangiato a me qualcun altro te l'ha rispedito no 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 non ti stavo sparando perchè l'hai fatto no perchè io sono e ora si comunque potete utilizzare la x per fare gli attacchi figli eh ah aspetta di attacchi figli vabbè sono diventati a tirare oh 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 maio ah in questo l'attacco figlio ok e qui eh ecco oh sembra l'attacco di smesso di netto mamma mia no no dai ma sicco è proprio uno stronto si può dire stronto su youtube si vabbè ci banno ci banno wow ha presso anche la medagliona ehh vada nico che cibi di tutta in medaglione oh nico che addominali che ti ritrovi qua ma guarda qua guarda invidia di me stesso ci puoi grattugiare il parmigiano con quei cosi che muscoli che muscoli ragazzi ah ecco perchè mi è venuta in mente ultimate muscle proprio cioè allora come faccio io mo qua ma se io voglio cambiare tipo secondo me nella x ah abbiamo cambiato colore ecco si sceglie lui il gioco allora ha detto basta cambiamo colore no perchè ci sta sempre diet match no come dice incontro ci stanno tutti gli amici che c'ho qua sulla cosa vediamo se riesco inizia partita nulla modifica impostazioni vediamo con l ah verso allora ci sta deathmatch ma perchè oh beh ma ho visto che c'è anche un'avventura cooperativa quindi c'è una storia un qualcosa non lo so si si poi ci sta corrisfera vogliamo provare corrisfera vai dai proviamo tutto vai proviamo ogni cosa oggi oggi in un'ora di gioco spolcheremo il gioco così tanto che neanche i fini di sviluppo perchè mi ha messo corrisfera squadra giocheremo così tanto che finiremo in mezz'ora giusto però così ti voglio ok quindi siamo io e bistacco contro master pain e sisco qua io non so cosa che bisogna fare io non lo so quello che bisogna fare nemmeno io nemmeno io esatto spacchiamo adesso ci starebbe venire da contratto voi dovete perdere mi raccomando non mi ricordavo sta clausola quando ho firmato eh non me la ricordo e allora devi andare a rileggere il contratto è scritto piccolo nelle clausole ah ecco è giusto per fregare subito la gente così ma guarda un po' 152 comma numero 172 ci fa eh ragazzo che dobbiamo andare ma dove sto io ecco perché sei davanti alla mia faccia eh raga non so raga ma io mi muovo qua ma che tipo fa raga ma che raga ma che ma dove sei ma qui c'è un muro invisibile raga ma io sto da solo raga ma ma dove sei ma perché non vado oltre no ragazzi non so no fermi io mi sono mancato signori ragazzi non so capire ragazzi non so capire il software è stato chiuso a causa di un errore anche a voi eh sì ragazzi si è sbomballato il gioco no vabbè bellissimo cioè è la prima volta che abbiamo visto un crash dell'applicazione una versione combinato ma sì ma infatti ho detto ma scusa ma gli altri dove stanno cioè questo era il gioco signori e signori no è fantastica sta roba aspettiamo la versione 3 a questo punto sì infatti comunque siamo già dentro dai siamo già dentro sì ecco no mi sono reso conto tipo dopo ho detto ma che sta succede qua perché mi hanno tacciato ma sono ancora no ci ha zerato tutte le statistiche no io sono livello 3 ancora no no a me è dato a livello 2 allora sono io che non ho guadagnato neanche a mezzo punto non mi sa di no allora la stanza è la stanza è 7 4 4 3 8 io ho finito super saian 4 anch'io ma non sarà forse un errore del server proprio perché non trova nessuno che andrea non è che hai messo privato ne sì ho messo privato col codice 7 4 4 3 8 dove lo metto sto codice 7 4 4 3 8 nella sezione in alto a sinistra allora mi ridici il codice 7 4 4 3 8 a me non ha merito impossibile unire sui gruppo allora metto no 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 ecco ecco eh sono dentro ci stiamo ci stiamo ultimo mooba rimasto invece di mooba raga perché adesso siamo intrati non moba non lo so e io che metto arpione vai fai arpione dai Ma è di nuovo versus questo No, è ultimo MOBA Rimazzo, non lo so Gioco della vita Magari muo' ringrazio un'altra volta Adesso annullo l'ordine di PS5 Levalo Ma che te frega Ma magari lo trovi anche su PS5 Ah potrei stare Magari gli sviluppatori Annunciano il porting Con crash migliorati Ecco, con crash migliorati Non riesci manco a entrare a crash a prima Dico Assicurati di stare ancora registrando Perché secondo me qui crash Ha ballato in panna tutto No, 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 sta registrando Tranquillo Ci mancherebbe che dobbiamo farlo due volte Ok Ultimo Ah, secondo me tipo E' tipo chi ammazza a prima La bomb Ah vabbè io perdo No No Ti scuri ho inculati Vuol dire inculati tu Vabbè così si bannano proprio No regà porco Ho capito Ho capito Proprio Vai bislacco Vendicaci Asbrega Via Ho fatto Ho fatto un KO Vai Aralo come i campi Aralo come i campi No Non dirlo Oh ma guarda Si stanno evitando uno con l'altro Cisco 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 E' come i combattimenti Un po' L'impatti Però Dovrebbe durare 27 puntate La cosa Lo scontro Ma perché Si stanno evitando Ma vi è stata ricarica la vita Invece di affrontarsi Stanno raccogliendo roba No Ma cazzo il piranha era il mio Ma per Adesso tutti su Cisco Guardate quanto siete Guardate come siete Ma il piranha è il mio Perché andate tutti da Cisco Perché andate tutti da Cisco Nico Siamo amministratori Siamo amministratori delegati Ragazzi Il CEO di Gamescore Mi ha fatto il culo Si può dire culo su YouTube Ma tu guarda Rockford che si nasconde Oh Nasconde Cavolo No 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 Cavolo Mi sono vendicato Eh si Cisco ora andiamo contro loro Ah vieni contro me Si 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 Tu sei il mia Ma Ma eccolo Ma 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 che cacchino Oce oce Pioi Pioi Pioia Sbrega Consendi Oh 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 Adesso vieni qui 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 Che devi dare le va Che devi dare le va E non muore nemmeno E non muore nemmeno E non muore nemmeno Immortale Mi scoè così Nooo Oh tutti contro Bislacco Assolutamente Forza Ah io Wow Catena Vai Wow E ma che fai Cos'è che fai Pio Oh no È Tutti subislacco Tutti subislacco Tutti subislacco Tutti subislacco Divento solo più forte Ma quando dico tutti subislacco Eh infatti perché ci vado solo io Non lo so Oh Perché c'è un cavalluccio marino Ma quei raggi laser che cacchio sono Eh sarà qualche trappola Che roba Non so chi li ha messi Eh non lo so Perché li abbiamo messi Io sto facendo Aia 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 Bomba Andrea Andrea smettila No No Che fisica ragazzi Che fisica Guardate Guardate la fisica dei proiettili faccia Non fuggire di frontella di Davaista Guardate Guardate Ma perca vi nascondete che a teore Sì Guardate 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 Gli Sisco È entrato nel tema Si può dire Farò una x su youtube Allora ora prende lo scudo e ti ti distrugge No Fuggire Il modo di vincere supermossa Vai con la supermossa Suppongo tu abbia una supermossa Vai Dai 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 song Perché ce l'hai con me poi? Se c'era sotto E non è colpa mia se sono sotto E niente Allora Andrea Eh dimmi Lo sai cosa sta per succedere? Allora non me la gioco Allora Allora Dai dimmi Ciao 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 Sono uno squadetto Mi chiamo baby shark Eh sì però poteva divirti dietro le spalle, tu eh Sì Ecco vai penso sia il video più visto no dovrebbe essere spasito mi sa che ti ha superato proprio quello io non lo so io lo so proprio ma io so che sono morto perché nico mi ha fatto il fuoco e invece si sco- origami e li va dai dai e mangiatevi non ma è impossibile che mi appare sempre dietro le spalle guarda che però l'hai lanciato tu a sto giro noi non ho fatto niente e infatti fa l'automico ma come posso fare la supermossa e autocolpirmi è incredibile perché c'è una cosa che si chiama fuoco amico ma fuoco amico è quando il mio amico mi spara non quando io mi suicido quale tuo amico è un'ottima teoria ma perché le lancia a caso ma chi corre? chi corre? chi corre? chi corre? chi corre dalla mia c'ho il più vita di te mi dispiace baby vieni qua vai facciamo uno scontro così unexpectedly ok oggi sei andato addosso in bocca ogni frimento fate le cose sicuramente per quale eh però non è giusto che nico e si è em 건강uta di oro Noi ci appartiamo Vabbè Oh, so piragna del cavolo Ma che è mio, no, non è mio Eh no, non è tuo Se no ti chiamato Gino Oh, aiuto, aiuto In realtà io vorrei Fatti picchiare Ho rinato a me No, ti scovinci perché se no vince Bislacco, ti prego Dai Sisco Dagli Sisco Come vuoi che vinco io Picciami un po' No, no, no Ma non farmi vincere come fanno i nonni La sfida è ancora aperta ragazzi Certo Oh, oh Super power No, 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 che il famone No, non c'è pagato Oh, padrone, non capisco Vai, vai, muove spacco Spacco, sprega più Sprega, spreghissimo Ah, ma è proprio, ma è proprio spregato Ah, ma è stato solo si scherzo Ehi E la velocità max non ti salverà, baby No, no Perché tu sei tu lì Guarda, è scavalluccio marino Cioè, io guardo a Rea e vedo solo un essere sfatto ciccoso Anche le femmine sono diventate bianche No, hai recuperato la vita No Caccia Tre Due Uno Dai, si può vedere a girare intorno al masso lì Peccati questo No Per un pelo Dai che l'hai congelato, dai Sì Ha vinto Roccaforte Nonna, guarda, è stata un imparto sta partita, eh Porca broda Riassumi in una parola quello che è successo Sbrelluciglio Che c'entra? È perché ero tutto sbrelluciglioso No, non ci credo No No, 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 dai No, no, sta caricando, dai Uomini di poca fede Allora Scusa, ma c'è la modalità avventura? Mettiamo sta modalità avventura Dovremo fare la modalità avventura, vai E infatti, facciamo la coppia Poi ci sta Versus, però non mi interessa E come si fa? Aspetta, eh Allora, Versus, no Avventura Oppure ci sta sopravvivenza Tipo a chi ammazza più mob No, avventura, avventura Avventura È la modalità fulcro Di questo progetto No, voglio capire più che altro C'è o non c'è Una modalità storia Sembra di sì Ma secondo me non è la qua che si raggiunge Bisogna andare No, no, vai vai Mettiti Beh, qualcuno deve fare il medical Ma no, ma che ti serve? Tanto abbiamo power up, vai Vai Dici, avrai power up Io quando faccio i giochi di ruoli Io sono sempre quel chirico Le healer O paladino Che forse hai il tempo a curare No, è una cosa Boh, dipende Io sono il kamikaze suicida Eh, io sono quello che evita Che i kamikaze si suicidi Fantastico Ma che stiamo aspettando? Eh, che carica la barra Stiamo aspettando di caricamento Stiamo aspettando che appare La barra di caricamento È in alto a destra La barra di caricamento In alto a destra Che sta avanzando Ah, giustamente io non la vedo Perché ci sono i vostri faccioni Sul mio schermo Ah, ecco Stai in alto a destra, comunque Proprio in alto a destra I nostri faccioni censurano Le scene di questo progetto Oh, dagli un po' Namo Allora Guarda che c'è tutta la cinematic Che occhioni grandi hai Macchi denti Questo è proprio un Moby Dick In tutti i sensi Francesco Muoviti Cisco vieni qua Sbrigade Cisco Regalati a questi Ma non sparate a me Ma tanto non ti succedi niente Non ti spariamo Attenti Non so Praticamente Non ho mai visto Io Grazie Ballare Pieno di power up È praticamente impossibile Non avere power up Sì, infatti Guarda Stando impossibile Sì, soprattutto se gli altri Sparano da dietro È che stavanti Si piglia tutto Eh, vabbè C'ho Lui Mi ha perso Nel tanto Quando è che arriva Questo progetto Io non lo vedo Eh, le nostre spalle Più stiamo fermi Più cosa Sì Ma sì Ah già Oh, chi Oh, la Sare sta bislacco Che scelta Ah, pure qua Si possono stare Le supermossa Sì, sì Oddio No, avete fatto Di combinarlo Che combino Eh, no, ragazzi Allora, dobbiamo Dobbiamo organizzarti Appena siamo tutti carichi Facciamo tutti e quattro insieme Vediamo come esce Eh, ci sarà un boss Sicuramente Cisco vieni Quando Raga Quando ho detto Che sono morto È perché gli stava Stavate Non ho partato Aiuto Aiuto Ragazzi Cappiamo No No Zitto No Non ditemi Non vedi No È morto No, vabbè Ragazzi 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 Correte Ragazzi Correte Ragazzi No, vabbè No, vabbè Ragazzi Ragazzi Manco stiamo Mi hanno fatto la bua Manco stiamo a metà Ragazzi Oddio Come si spawna Eh, dobbiamo arrivare al checkpoint Che arriva fra poco No, vabbè No, vabbè No, vabbè No, vabbè Eccolo Eccolo Ecco a te Ragazzi Venite Ragazzi Correte Correte Venite Oddio No, vabbè Dobbiamo Faccato Tutto Fuzione Fuzione Cappato Cos'è Ehm Andrà Ma Rega Guardate Ma che è una bombata Cosa che vuola Guardate 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 Sisco Ma a te piace Però io morì qua Eh Non lo so Go Go Dove Go Go La stai Oh Rega Oh Go Facile Infatti Questa cosa Non l'ho capito Però Go Go E Si è fermato Tutto Ci sono I pulsanti D'attenzione Vuol dire Che ci saranno Gli squali Dick Ballen Quelli che seguivano Tanto Nico Nico Eh si Oh È punto Giovanni che gli ha testato Assolutamente E io mo vado giù Eh Che me prega un'altra volta Visto Vai Nico Nico Io mo vado qua Oh ragazzi Sì No Amore Sto gioco Però No 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 Rega No Rega Rega No Rega No Rega Che caraggia Che c'è Un bambino Ti scolediamo E Vai Eccolo Tutto Che fare all'improviso Ma no In me Le compaiono 27 mila Di schifosi Esatto Dai di che macchone Eh Oh Oh Dio Me scateno Ragazzi Scateniamoci Oh Oh No Mi sembra anche buoni Wings Che mi sono buoncianti Come c'era Guarda No Non diciamo che altro Ma io lo guardavo le Wings Ma perchè io no Ma tu te le vedevi le prittitura Eh Eh Adoro 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 Ma com'è vecchissimo E io me so dovremmo vecchissimo No 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 dai No raga No Sei rimasto da solo Bislacco Spara gli spara gli spara gli studenti Ah Completo 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 Cioè abbiamo finito il livello e il mostro non è morto Ma io sparavo Il mostro invece bastava solo Completa con i miei giocatori vivi Completa con i miei giocatori vivi Completa con i miei giocatori vivi Ma come fai Ma come fai Ma guarda che Assurdo eh Guarda che ce ne vuole eh Le spallo No però tanta roba Tanta roba Tanta roba ragazzi Non è facile eh Non è facile come cosa No proviamo a mettere un'altra Meta no ho rimasto un'altra volta Allora avventura 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 Avventurzani Tipo ci sta raga Avventurzani Avventurzani Facciamo quest'altra e basta ragazzi Raga è beccato però Possiamo fare sopravvivenza Dai vai con sopravvivenza Vediamo che esce fuori No cambio livello eh Allora possiamo scegliere tra Abisso blu Laguna tossica Caverne di cristallo Baia dei piragni E coralli antichi Che preferite? Piragna Baia dei piragna Vai Accordato vai Senti il sapore del disagio Si Che alleggia Tanto disagio No Non voglio tornare la home Oh 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 Ehi no eh ho schiacciato il pezzo sbagliato ok vai no ma che cacchio avevo scelto io il brune bomba me l'ha tolto per verlo te prepotente prepotente eh l'uomo devi selezionare prima ma scusa no l'avevo già selezionato ma me l'ha tolto come fa un attimo sei sicuro non mi faceva fare forse lui ha un livello più alto quindi dalla precedenza a lui è perchè sono livello 5 eh vedi che lui è figo sui pomeriggio in anticipo early access è l'espressione alfa beta gamma circa si infatti l'ho testato io ma è diventato top player cosa succede no ma aspettate siamo tutti insieme siamo tutti insieme che dobbiamo uccidere i piragna ok mi piace no si scobieni qua ma se io tipo vado qua muoio ma non venire fino a qui oh se vi c'è oh oh lascialo stare se vado qua che succede no niente ok che stavo peggio e fu così che ho lo scatena pronto ho visto adesso che si chiama scatena pronto ma sii abbiamo un sacco di shock curativo minna anti uomo ovviamente è pieno di uomo allora io mo mi metto qua lo sai mo mi metto qua chi l'alli ma li aspetto tutti a barco oh lascialo sta oh guarda che in famone vai picco secondo voi ce la facciamo arrivare di palla centesima ondata o moriamo prima il video non lo so quanti ondate ci sono no no penso fino a che non moriamo sento infatti non ci sono ondate infatti però cosa sarà diventa un bortello oh leva dei due lascialo stare dai usato usato il potere andrea ecco vai vabbè 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 oh guardate i drone della madonna che ha uccido mi sta un po' laggare però ne sono tanti eh non vorrei dire no infatti guarda oh ma guarda le vanti questi vanti le vanti ecco sono tanti ecco piranha boom oh rockford appena sei pronto con la cosa la spariamo tutti insieme eh wow ok no ecco a me manca ancora un po' di uno eh oh sono morto no è morto no no vabbè oh mi pare di sta cavalluccio marino oh mi dicevi ricavate questi cavallucci cavolo mai avrei pensato che un cavalluccio marino se avessi saputo faccio la necessità che è sta roba qua sopra di me eccolo eccolo perché noi siamo tutti in mob oh abbiamo salvato nico ragazzi addio mi piace il fatto che ti mettiamo nico con un nico di cispi ahhh un nico che pensavo che era Andrea anche oh oddio attento ora è vicina ahhh giù giù carica la barra carica la barra eh eh no vabbè Andrea nooo no aspetta oh ragazzi vai l'autotodio vai dj volve ah ah vabbè che esplosione che esplosione di laghi eppure io sto messo male ragazzi quindi oh meno male questo sta lanciando le bombe a tutto piano fai curaci grazie grazie vabbè ti avrò verlo oddio attento oddio attento levati da lì già ci faccio che dici levati da lì ma non dici il soggetto del discorso si è in fase no perchè io sto guardando il black è come che lo diceva tesa infatti oh ma quanti c'è due? oh ma direi che quel coso catena pronta ragazzi sono rotto il black ecco un attimo un attimo ecco un attimo ecco manco trovo io dai catena pronto vai veloci veloci vai super figo va va super ben fatto quindi questa era appena anche la prima ondata no non mi dico oh ragazza c'è oh ah questi si mangiano questi oh aia aia andrea 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 non morire no no io mi sono tolto da la oh comunque siamo alla vicissima ondata ragazzi eh siamo proprio dei top player eh top player secondo me secondo me se a primi video guardiamo le classifiche mondiali noi siamo primi classifiche sì dai i primi eh Erik oh oh tutti cari si vanno via tu daaja oh oh Fioiii!! Vai fioia! Sprega! Il potere del mega! Guarda! Laga tutto! Ah no! Ce l'abbiamo in tempo, mi sta! Ce l'abbiamo in alto a destra... E' il fine, perchè dici quanto durano un'ora? E' per fortuna! Se no, oh regà... oh oh oh! Non c'è tempo, oh oh! Mi sono venissimi! Oh regà, ma tu... ma lugari questa cosa vedi che c'è il pezzo e due pezzi ah vedi che si resetta è andata a 14 no attento no dietro di te attento disco no ecco di oddio senti i ragazzi a questo no 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 si sei sempre ammori cavolo no ho solo i peezi piccoli ecco dove Sisco, dove stai? Sisco, dobbiamo farlo ritornare, ragazzi. Sisco, indusè, io mi credo, posso... Ragazzi, aiutatemi, Cristo, figlio, prea! Aiuto, grazie. No, 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 no. Oh, idea. No! Morto. No, ecco, andiamo qua. Andiamo a salvare qualcuno. Vai, Sisco, è cosa qui? Giovanni ha superato tutti, per far farmi lui, lo dico, grazie. Vai, aiuto! No, dobbiamo, vai, vi prego, aiuto. No, regalo, non gli ha fatto. Ragazzi, non gli ha fatto, ragazzi. Dio, 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 Dio. È accetto così tanto che è morto. Ragazzi, aiuto, aiuto. No. Game over. Cavolo. E con questo direi che finisce il nostro video, la nostra avventura, con questo gioco che, come si chiama? Ehm, Slimish Brosny. No, si chiama Slim Sanity. Ce lo siamo dimenticati. E di chi è, e di chi è? È degli Smini Smani. Aspetta, aspetta, lo dico subito. Datemi tempo. Sei l'umpa-lumpa. È di The Koi Games. The Koi Games. Che hanno sede a? È a Barcellona, ma ce l'hanno in Irlanda per pagare meno. Quindi... E quanti sono? Eh, sono marito e moglie. Quattro. Che stanno ai peri porti. Tra poco si aggiungono anche pegli. Ultima domanda, importantissima. Quando esce l'aggiornamento 3.0? Spero il prima possibile, perché crasha quando stai a fare cose con le palle. Com'era quel coso? Prendi palla, prendi sfera. Non appena esce la versione PlayStation 5 con i crash migliorati. Esatto, sì. Che giocherà in esclusiva disco. Assolutamente sì. Che vuole sfruttare la potenza dell'hardware. Che quando crasha il gioco si attiva il feedback aptico del controllo di PlayStation 5. Esatto. E gli esce un dito meglio. Il letto si mette a forma di dito meglio. Sai che spettacolo. E con questo direi che possiamo concludere il video. Fateci sapere comunque voi cosa ne pensate di questo gioco. E al prossimo videogameplay. Ciao a tutti. Ciao ragazzuoli. Ciao.